avete presente quando cercate qualcosa che non trovate più tipo ad esempio un mazzo di chiavi della macchina dovete uscire con la macchina e non trovate le chiavi della macchina e comincia a montare comunque l'ansia no la preoccupazione la frustrazione dove le ho messe cosa farò adesso come faccio senza le chiavi della macchina ma come mi arrangio come posso fare devo chiamare il carratrezzi questo e quell'altro poi vi toccate ma mannaggia ma dove le ho messe e le trovate in tasca perché alla fine sono sempre state lì sono sempre state in tasca pensavate che erano chissà dove chissà dove dovete cercarle ma sono sempre state in tasca questa è un'analogia che vi faccio perché vi riporto al discorso comunque di di calulu calulu che nelle ultime uscite anzi più delle ultime uscite forse nelle ultime 8 9 uscite ha dimostrato di essere un giocatore veramente importante un giocatore veramente forte calulu nasce come terzino destro no ma in realtà non prendiamoci in giro lui è un difensore centrale perché si vede si vede è il contrario secondo me è snaturato terzino destro e naturalizzato e naturalmente è è un giocatore un giocatore un difensore centrale perché lo vedi perché lo vedi giocare lo vedi come fa lo vedi col suo fare da veterano lo vedi come blocca gli attaccanti come cosa ha fatto conoscimento del napoli gli mordeva le caviglie non lo lasciava respirare era col fiato sul collo lo vedi cosa ha fatto con l'inter è pazzesco non è un giocatore altissimo ma è comunque un grande giocatore che diceva bene anche cannavaro è altissimo ed era un campione cannavaro non facciamo paragoni che possono sembrare folli però per dire giocatore difensore non per forza deve essere due metri venti per essere un fenomeno e questo è quello che sta dimostrando canullo quindi la la mia domanda nei vostri confronti sorge spontanea che è quella che mi faccio anche a me stesso ha senso a questo punto spendere 30 35 milioni per acquisire un difensore centrale come può essere botman quando molto probabilmente ce l'hai già in casa al difensore centrale che ti serve probabilmente calulu a fine giugno sarà un giocatore che avrà acquisito ulteriore esperienza e non dico che sarà già un giocatore fatto e finito ma sarà un difensore centrale a tutti gli effetti sarà quello che ti manca quello che non trovavi quindi ha senso spendere 30 35 milioni per botman o quei 30 35 milioni al netto del budget stipulato da eliot che di 100 milioni quei 30 milioni visto che il budget è già striminzito puoi utilizzarli per il centro avanti e per un centrocampista offensivo magari più senso perché lì davanti ragazzi abbiamo girù che tra l'altro piccola parentesi sono contento rientra non si fa neanche un giorno extra in più ma con l'epoli sarà a disposizione io ieri avevo detto che probabilmente non c'era perché questo era quello che era arrivato come voci perché l'hanno visto uscire col ghiaccio zoppicante ovviamente la prima cosa che pensi che minimo una partita la salta ok quindi evidentemente non era così grave come sembrava quindi girù è disponibile siamo tutti contenti io sono il primo è attenzione stavo dicendo davanti chiuso la parentesi davanti lì c'è girù che va verso i 36 anni e non è lui il salvatore della patria ragazzi farà tante partite ancora buone ma non è lui che ti fa la differenza lì davanti ok abbiamo ibre che a fine carriera che vi piaccia o non vi piaccia che sia tamanti o meno ibre a fine carriera punto non si discute non può dare ancora chissà per quanti anni forse per mesi ma è quello che è poi abbiamo marco lazetis che il nuovo acquisto che è sempre a milanello a spolverare a spolverare i soprammobili magari scusate finalmente pioli deciderà di farlo esordire speriamo speriamo così vediamo anche lui com'è come gioca se è utile alla causa e quindi serve un centro avanti come il pane serve quindi quei 30 milioni perché non veicolarli davanti verso il centrocampo magari verso il centrocampista offensivo perché diaz non sta dando le garanzie che doveva dare purtroppo lo stiamo vedendo quel budget che già risicato utilizziamolo per altro magari questa è la mia idea fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente discorso i cardi che è il discorso della copertina del titolo allora l'ha detto anche longoni pare che pare che attenzione ci sia una trattativa in atto fra il psg e il milan per acquisire i cardi e tutti quanti un'altra fake news perché tanto non ce lo possiamo permettere perché costa 50 milioni perché perché l'ingaggio percepisce 11 ma dove dobbiamo andare noi che non ci possiamo permettere neanche i giocatori a tra milioni e no e no alt calma i cardi verrebbe in prestito al milan ok in prestito quindi il cartellino mettetelo un attimo da parte l'ingaggio verrebbe spartito fra psg e milan perché pochettino pocettino come volete chiamarlo non vede i cardi per lui i cardi è una seconda scelta non gli serve non lo vuole quindi perché tenere un giocatore in rosa pagagli un contratto intero uno stipendio intero quando puoi tra virgolette liberartene quindi verrebbe al milan in prestito non so se a secco biennale annuale quello che è con lo stipendio spartito fa entrambe le società quindi molto più leggero per il milan e con il decreto crescita sarebbe ancora un pochino più leggero quindi assolutamente plausibile assolutamente possibile e con un prezzo del cartellino che magari si potrà ridiscutere fra uno o due anni magari poi fra uno o due anni il psg è disposto a trattare a cifre inferiori anche perché poi la scadenza non mi ricordo quando è ricordatemelo voi comunque secondo me si può trattare una cifra nettamente inferiore rispetto a quello che è la richiesta di oggi quindi tutto è possibile assolutamente possibile e poi c'è l'opzione vandanara che in quanto donna aperta parentesi chiusa faccio gli auguri a tutte le donne ovviamente per la festa oggi in quanto donna è vendicativa vandanara vorrebbe venire a milano ma non per tornare all'inter ma per venire al milan perché lei se l'è segnata se lei se l'è proprio segnata questa cosa che ha fatto l'inter e deve e deve vuole vendicarsi quindi sarebbe una goduria immensa per lei e credo anche un po per ricardi sinceramente e noi faremo un bello sgarbetto anche all'inter perché un po secondo me gli brucierebbe a loro quindi la situazione è proprio questa che la possibilità è concreta la possibilità c'è seguiamo ovviamente i sviluppi vediamo quando andrà a finire io per intanto per oggi vi auguro buona giornata ci sentiamo come sempre domani andate a guardare anche il video di gabriele pubblicato forse mezz'oretta fa un'ora fa che anche quello è molto interessante vi ripeto buona giornata sempre forza mila e ci sentiamo domani adieu